Buongiorno, benvenuti a questa lezione di visualizzazione dell'informazione quantitativa. L'obiettivo della lezione è quello di vedere nel dettaglio come funziona R Markdown, che è sostanzialmente una variante del linguaggio Markdown utilizzato in tanti contesti, specificamente modificato in modo da poter ospitare dei frammenti di codice R e quindi permettere la formattazione di dati testuali e i risultati che si ottengono dalle elaborazioni R, sia testuali che grafici. Cos'è Markdown innanzitutto? Markdown è un linguaggio testuale che è stato proposto alcuni anni fa da John Gruber e che può essere facilmente convertito in tanti formati. Sostanzialmente è un formato puramente testuale che è pensato per essere facile da leggere e facile da scrivere. Può essere pubblicato nel formato in cui si trova, quindi puramente testuale, e quindi essere facilmente letto come un file di testo, andando a sostanzialmente ignorare quelli che sono gli elementi di formattazione che comunque non danno fastidio e permettono la lettura. Il vantaggio di Markdown è che è possibile convertirlo in maniera abbastanza facile in tanti formati, principalmente HTML, ma non solo. Il tool che permette la maggiore flessibilità e che ha il maggior numero di formati in uscita si chiama Pandoc e questo tool è integrato all'interno di RStudio. Con RStudio io posso andare a prendere un documento R Markdown e cliccare sul pulsante NIT, oppure utilizzare anche la funzione Render, e generare un documento. La sintassi base di Markdown prevede quella che si chiama Enfasi, cioè racchiudere una parola o più parole tra singoli asterischi o grassetto, usando il doppio asterisco. Possiamo avere gli apici, i pedici, possiamo mettere dei link in cui mettiamo un'etichetta o possiamo avere delle immagini. Connotazioni, come vedete, molto molto semplici e che possono essere lette direttamente e ovviamente come vediamo in questa slide che è stata scritta in Markdown essere convertiti in un aspetto visuale. Possiamo in Markdown andare a definire dei paragraph capoversi in italiano che sostanzialmente sono delle sequenze separate da linee vuote. Possiamo anche andare a strutturare il nostro documento mettendo quelle che sono delle intestazioni, titoli di livello 1, 2, 3 o 4, se vogliamo. Per definire un titolo mettiamo 1, 2 o 3 simboli di cancelletto prima della linea, all'inizio della linea, e questo li fa interpretare come fossero dei titoli. Possiamo mettere dei frammenti di codice andando a utilizzare quelli che si chiamano i limiti, quindi mettendo tre apici singoli al contrario, oppure possiamo mettere delle quotazioni, quindi andando a mettere il segno di maggiore in prima colonna tutto quello che segue viene interpretato come fosse una citazione. Possiamo utilizzare delle liste, le liste possono essere iniziate con il carattere di asterisco, trattino o più, diciamo che quello raccomandato è il trattino, che insomma non si confonde con altro, ma gli altri funzionano. Possiamo utilizzare delle liste numerate, andando a mettere semplicemente in prima posizione un numero, solitamente seguito da un punto, e ovviamente possiamo andare a annidare liste di vari livelli, puntate, numerate, eccetera. È ovviamente possibile andare a definire delle tabelle in cui abbiamo la prima riga di intestazione, in cui abbiamo i nomi delle colonne separati dalla pipe, la barra verticale. Poi abbiamo una riga che è, per l'appunto, la riga di separazione tra i titoli e il contenuto della tabella, in cui ho una sequenza di trattini separati dalle barre verticali. Nelle sequenze di trattini io posso mettere il carattere di due punti all'inizio, alla fine, oppure sia all'inizio che alla fine, per andare a indicare che quella colonna deve essere allineata a sinistra, a destra, oppure al centro. Poi elenco tutte le righe della mia tabella andando a separare le celle della singola riga con sempre la barra verticale. Per cui, ad esempio, in questo piccolo frammento viene riportata una tabella in cui abbiamo la prima colonna che ha come titolo ID allineata a sinistra, la seconda colonna che si chiama Name, che avendo i due punti sia all'inizio che alla fine verrà allineata al centro e poi Points che avendo i due punti in fondo viene allineato a destra. Posso utilizzare delle espressioni matematiche utilizzando una notazione che si chiama... che prende dall'origine dell'Atec e questa notazione che è puramente testuale la posso inserire tra una singola coppia di dollaro oppure tra una coppia di doppio dollaro. Nel primo caso l'espressione resta sostanzialmente in line nel testo nel secondo caso viene messa come una formula o un'equazione separata dal testo. All'interno della notazione l'Atec posso andare a utilizzare lettere greche posso utilizzare degli operatori binari degli operatori di relazione oppure altri simboli ad esempio l'integrale la sommatoria la produttoria eccetera. Nei riferimenti che trovate in fondo a queste slide c'è un link a un documento che riporta nel dettaglio la notazione che potete utilizzare. Finora abbiamo parlato di markdown ok sostanzialmente quello che ha stato definito da John Gruber come un formato di testuale che può essere facilmente leggibile facilmente convertibile. Come markdown diventa R markdown sostanzialmente andando a introdurre dei blocchi di codice i blocchi di codice iniziano con i tre apici inversi graffa R e poi alcuni parametri chiuso e graffa questo è l'inizio del blocco di codice e il blocco di codice poi è chiuso dal tripletta di tre apici inversi esattamente come il testo preformattato R in questo caso significa linguaggio R R markdown si è evoluto in modo da consentire l'utilizzo di altri linguaggi all'interno dei blocchi di codice ad esempio Python o Java avendo ovviamente le opportune librerie che permettono di gestirli all'interno del blocco di codice vado a mettere del codice che verrà eseguito posso mettere un'etichetta per i blocchi di codice che può essere utile se ne ho tanti per capire che cosa fanno e eventualmente poi separati da virgole posso andare a mettere altri parametri di quello che si chiama il blocco di codice il chunk tre che sono utilizzati abbastanza sono quelli che mi permettono di decidere se includere o meno i risultati dell'esecuzione all'interno del documento se mostrare o meno il codice che viene eseguito eco e eval che permette di decidere se valutare un blocco di codice oppure no può essere utile ad esempio riportare un blocco di codice senza eseguirlo per semplicità o semplicemente per mostrare un esempio oltre ai chunk di codice in rmarkdown posso andare a mettere all'interno del testo normale markdown i risultati di un'espressione r questo lo metto andando a indicare l'apice inverso r poi un'espressione e poi un nuovo apice inverso l'apice inverso normalmente serve per andare a formattare in formato codice un frammento di testo non separato dal resto ma integrato nella linea se io metto questa r all'inizio quel blocco viene interpretato come un'espressione r che verrà valutata e al posto di quel elemento verrà sostituito il risultato per cui nell'esempio che vediamo qui se io vado a riportare r seguito da 3 al quadrato più 5 al quadrato il risultato sarà che verrà valutata con l'espressione quindi 9 più 25 il risultato 34 e quindi il valore 34 sarà sostituito al posto di tutto questo blocchetto di codice inline col risultato che vediamo qui sotto quindi una somma di quadrati due punti e poi 34 al posto di quel frammento di codice inline posso andare a mostrare dei grafici cosa succede il grafico viene visualizzato dove c'è il frammento di codice quando utilizzo dei grafici può essere utile andare a mostrare andare a fornire due parametri che sono fig width e fig height che permettono di andare a definire l'altezza la larghezza e l'altezza di un grafico questi danno la possibilità di controllare sia quello che è l'aspect ratio ovvero il rapporto altezza e larghezza sia andare a definire la risoluzione quindi mettendo dei valori molto più alti la risoluzione sarà più elevata quindi sostanzialmente vedrò dei caratteri più piccoli ad esempio dei punti più piccoli qui c'è un esempio dove definisco due variabili x e y che sono due vettori il primo è il coseno dei numeri quindi da 1 a 2 quindi 1 a 50 è un range quindi i numeri interi da 1 a 50 da 1 a 100 scusate divisi per 50 quindi sostanzialmente da 1 a 100 vuol dire da 1 cinquantesimo fino a 2 moltiplicati ancora per P che è la costante pi greco quindi calcolo il coseno per tutti i valori che vanno da 0 cioè in realtà da 0 da 1 a 2 pi greco y invece corrisponde al calcolo del coseno da 1 a 4 pi greco perché in questo caso diviso per 25 risultato netto ho questa figura con i punti che corrispondono alle x e le y calcolate in questo modo se vado a modificare l'aspect ratio mettendo ad esempio fig width 9 e fig height 3 quindi ho una figura molto allungata ok 3 a 1 come larghezza e come rapporto il codice è esattamente lo stesso solo che il risultato è una figura che come vedete è molto più larga che alta posso a partire da un data frame andare a generare una tabella per cui ad esempio se ho una variabile courses che contiene le informazioni dei corsi del primo anno usando questa funzione niter 2 punti 2 punti cable in questo caso niter è scusate niter sostanzialmente è il nome di una libreria e cable è il nome vero e proprio della funzione passando il data frame a questa funzione ottengo una tabella che poi verrà visualizzata all'interno del nostro documento nel formato standard il formato standard in queste slide è quello con la tabella con la riga dei titoli con lo sfondo arancione e il testo bianco ma il documento html o l'ate o word che può essere generato utilizzerà la formattazione standard delle tabelle per quel particolare documento se io non utilizzo quella funzione il risultato è che il contenuto del nostro data frame verrà stampato esattamente come lo vediamo nella console quando andiamo a valutare un data frame con l'aggiunta ovviamente di questa coppia di hash iniziali che servono per formattarlo in maniera un po' più facilmente leggibile all'interno di un file rmrtown è possibile andare a includere un blocco iniziale che permette di definire alcune meta informazioni che descrivono come si può comportare il nostro documento e alcuni dati ad esempio il titolo l'autore la data il blocco di dati iniziale è racchiuso tra due coppie di tre trattini utilizzo una sintassi che si chiama YAML il link ci mostra poi se siete interessati i dettagli della sintassi molto semplicemente per ogni variabile o parametro che voglio andare a specificare metto il nome del parametro due punti e poi il valore un parametro che spesso può essere utilizzato è questo il tipo di output in questo caso se io metto HTML document quando andrò a cliccare sul pulsante NIT quello che mi verrà generato sarà un documento HTML posso utilizzare anche altri tipi di documento noi utilizzeremo molto un tipo di documento che si chiama HTML notebook perché è interattivo più facile da generare che è una variante del documento HTML ovviamente ne possiamo andare anche a indicare un documento PDF PDF utilizza come passaggio intermedio la formatazione in LaTeX e quindi è necessario avere a disposizione installato sul proprio PC anche tutto l'ambiente LaTeX se non volete installare tutto l'ambiente LaTeX c'è un package che si chiama Tiny Tech che installa proprio una versione minimale di LaTeX che vi permette di generare comunque i documenti in formato PDF Word Document Audit Document PowerPoint Document sono altri formati che possiamo utilizzare per andare a generare quello che è l'output che desideriamo nel formato che più è utile per noi qualche qualche veloce informazione sui notebook quindi i notebook sono dei documenti RemarTown sono simili per chi li conosce ai notebook Python o Jupyter Notebook i blocchi di codice all'interno di un notebook sono eseguibili in maniera assolutamente indipendente e interattiva all'interno di un notebook l'output del frammento viene visualizzato direttamente sotto quindi noi abbiamo un editor di testo in cui abbiamo i nostri blocchi di codice e subito sotto vediamo il risultato di questa esecuzione è possibile andare a mostrare una preview in HTML quindi quando salvo un documento quello che succede è che tutti i chunk che sono stati eseguiti in maniera interattiva all'interno del nostro HTML di preview avranno il proprio output per il resto è un documento Markdown con le stensioni R quindi con tutti i dettagli di cui abbiamo parlato prima per eseguire un chunk posso utilizzare CTRL SHIFT ENTER oppure CMD SHIFT ENTER in ambiente MAC oppure c'è una freccetta verde in alto che mi permette di eseguire il chunk posso esattamente come facevamo per gli script R usare CTRL ENTER o CMD ENTER per andare ad eseguire una linea oppure un blocco di codice che io ho selezionato e posso andare a inserire un nuovo chunk con CTRL ALT I oppure CMD OPTION I questo è molto utile perché non su tutte le tastiere è facile andare a scrivere il singolo apice inverso normalmente lo si fa con ALT e il carattere di pipe o backslash o in caso MAC OPTION e il carattere del tasto backslash pipe comunque CTRL ALT sono tasti che troviamo ad apertura su qualunque tipo di tastiera che ci permettono di andare a inserire direttamente il blocco con il testo che serve c'è anche un pulsante insert sulla parte alta dell'editor che permette di fare di inserire un chunk di codice quando salviamo un notebook viene generato automaticamente un file .nb.html questo è un file html che ovviamente posso andare a visualizzare con un browser ma al suo interno ha negato anche il codice sorgente di partenza per cui posso se voglio condividere un notebook semplicemente passare questo file condividere questo file e aprendo questo file .nb.html con RStudio automaticamente il codice che è stato utilizzato per generare il file html viene estratto e salvato in un file rmd che ovviamente ha lo stesso nome del file notebook html che è stato aperto e quindi è sostanzialmente un formato misto che include nello stesso file html sia la parte visuale risultato dell'esecuzione dei chunk sia il codice sorgente di partenza e quindi mi permette di andare eventualmente a vedere il codice sorgente e possibilmente modificarlo quindi è il formato ideale per condividere le nostre elaborazioni i nostri notebook e i risultati dell'rmrdown sono interattivi per cui giusto per darvi un esempio qui ho utilizzato una libreria che si chiama leaflet che permette di andare a inserire questi blocchi di visualizzazione di mappe di una libreria scritta originalmente in javascript che può essere utilizzata dall'interno di r per cui quello che posso fare ignorando la sintassi di cui torneremo più avanti è quello di andare a mostrare un frammento di di codice che sostanzialmente include una vista su una mappa queste sono le coordinate 7,659 est e 45.063 nord che sono sostanzialmente le coordinate del Politecnico di Torino questo che vediamo qua è un elemento interattivo javascript per cui possiamo andare a cliccare su più o meno e andare a far scorrere la mappa questo è sostanzialmente la visualizzazione delle mappe di OpenStream Map attraverso questa libreria che si chiama leaflet e quindi quel frammento di codice che vedete sopra è tutto ciò che è necessario per andare a inserire all'interno di un vostro documento un pezzo della mappa interattiva il vantaggio è di avere un documento in formato HTML che quindi può includere javascript e permettere un elevato grado di interazione quindi il codice che serve per utilizzare Rmarkdown è quello di cui abbiamo parlato la volta scorsa parlando di R base quindi R e RStudio che potete ovviamente scaricare liberamente se non l'avete già fatto vi cito all'infine alcuni riferimenti un libro online su Rmarkdown questi libri sono stati scritti in Rmarkdown e poi opportunamente convertiti in un formato che si chiama Bookdown che permette di pubblicare online questi libri quindi c'è una guida su Rmarkdown un altro con un cookbook che sostanzialmente fornisce i dettagli per risolvere problemi specifici la sintassi Rmarkdown originale definita da John Gruber nel 2004 il manuale di Pandoc che è lo strumento che viene utilizzato per convertire Rmarkdown in un qualunque altro formato sostanzialmente cosa succede quando voi fate CNIT viene eseguito il codice R sostituito il risultato all'interno del file Rmarkdown quindi otteniamo un contenuto che è sostanzialmente Rmarkdown a quel punto utilizzo Pandoc per andare a generare il risultato finale HTML o altro e infine qui vi ho messo un link a una risorsa online che descrive la sintassi che potete utilizzare per andare a scrivere delle espressioni matematiche con la sintassi Latec che è riconosciuta all'interno di Rmarkdown questo è tutto per oggi che vi ho messo qui vi ho messo qui vi ho messo